Timidi ma incoraggianti segnali di ripresa arrivano dal Vibonese sul fronte dell'economia. A dirlo è la Camera di Commercio di Vibo Valencia che ha presentato l'ultimo rapporto di nuovi imprese relativo al secondo trimestre del 2016, che segna un tasso di crescita dell'1,3%. Tra iscrizioni e cessazioni, il saldo è di 135 nuove imprese produttive. In particolare sono state 283 le iscrizioni a fronte di 148 cessazioni di attività esistenti. Numeri che collocano Vibo Valencia al sesto posto nella classifica nazionale per tassi di crescita provinciali e al secondo posto tra le province calabresi. Il saldo positivo è dovuto principalmente alla nascita di 227 nuove imprese e 42 società di capitali. Il primato spetta le imprese giovanili, sia sotto la forma di società di capitali che di imprese individuali, seguite dalle imprese femminili. Entrando poi nel dettaglio dei settori, si registra un forte incremento nel comparto dell'agricoltura e del commercio. Dallo studio emerge un incremento esponenziale, con un più 233,3% delle attività nel settore delle assicurazioni e del credito. Siamo veramente entusiasti di questi dati, ha detto il presidente della Camera di Commercio Michele Lico, e del ruolo che il nostro ente sta assumendo come impulso di un territorio che cresce per benessere e intrapresa. Il nostro sostegno alle nuove e vecchie imprese non prescinde mai dalla lotta alle illegalità diffuse. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24